bella a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video ragazzi in questo video vi spiegherò e vi dirò tutte le posizioni esatte di tutti gli avamposti ragazzi preferibilmente usate un veicolo velocemente un aereo e ragazzi andate in tutti gli avamposti in una singola partita così ragazzi completerete questa missione velocemente quindi ragazzi il primo avamposto si trova esattamente sulla montagna vicino a borga allegro proprio qui in questa posizione esatta passiamo al secondo avamposto ragazzi secondo avamposto si trova esattamente qui vicino palmetto e landa letali eccoci qua vedete ragazzi andiamo al terzo avamposto ragazzi ecco qui il terzo avamposto si trova esattamente qui eccoci qua e noi velocemente ragazzi andiamo anche al quarto avamposto ragazzi questo è il quarto avamposto vedete vicino rifugio ritirato eccoci qua e ora andiamo al quinto avamposto ragazzi quinto avamposto effettivamente qui nella zona di passatempi pomposi eccoci qua esattamente qui ragazzi andiamo a per ultimo avamposto ragazzi ragazzi per ultimo avamposto che sarebbe il sesto avamposto si trova qui vicino parco pacifico sulla sulla montagna gigante eccolo qui come ben potete vedere ragazzi adesso andiamo all'ultimo avamposto ragazzi finalmente eccoci qua l'ultimo avamposto che si trova effettivamente qui come ben potete vedere eccoci qua vedete ragazzi diciamo vicino a spiaggia snob il campo da football ragazzi io vi lascio qui grazie mille per aver guardato questo video ragazzi e questo tutorial per trovare velocemente gli avamposti lasciate sempre like ragazzi per i miei video e soprattutto per questo video e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi